Musica Se in Europa c'è molta gente che parla di noi è perché probabilmente invece il nostro lavoro lo stiamo facendo abbastanza bene. Ma un conto è la divergenza, un conto è l'insulto. Ho sentito questa posizione dal Ministro dell'Interno francese che respingevano con violenza gli immigrati dalla frontiera della Francia. Noi dalla Francia, dal Ministro dell'Interno francese non abbiamo bisogno e ne accettiamo nessuna lezione su come gestire l'immigrazione. Per quanto riguarda le dichiarazioni del Ministro dell'Interno francese io dico questo, spetta solo a noi italiani riconosce che questo governo è incapace. È incapace ma lo dobbiamo dire noi, non si devono permettere ministri francesi o ministri stranieri di interferire nelle nostre cose. Ma c'è la Francia, c'è la Spagna, mi pare che l'Italia sia sempre più isolata in Europa. Contiamo sempre meno nei contesti europei perché cerchiamo di allearci con altri paesi che non solo culturalmente ma anche ideologicamente propongono un paese e una visione sui diritti e sui doveri dei cittadini che ci riporta a tempi che pensavamo di aver lasciato alle spalle. Per settimane abbiamo ascoltato il governo Meloni rivendicare risultati sui tavoli europei sulle politiche per l'immigrazione. Oggi capiamo che era tutto falso, non c'era alcun risultato ottenuto, non c'era alcun nuovo approccio su cui il governo italiano aveva convinto i partner europei a partire da un partner fondamentale come la Francia. Ripeto, a me non risulta che ci siano problemi bilaterali tra Italia e Francia attualmente, anzi mi pare che si lavori sui tavoli sui quali bisogna lavorare per affrontare insieme le questioni, quindi queste dichiarazioni così aggressive fatte a favore di telecamera mi sembra che parlino all'opinione pubblica francese. Tra l'Italia e la Francia i rapporti sembrano sempre più incrinati a dare fastidio ai cugini di Oltrealpe, in particolare la politica migratoria di Giorgia Meloni che Stéphane Sejourné, il presidente del partito di Macron, ha definito ingiusta, disumana e inefficace. Ripartiamo da qui per questo nuovo approfondimento del TG Plus. Buonasera Savino Balzano, il nostro opinionista. Buonasera Aurora, buonasera a tutti voi. E con molto piacere do il bentornato alla professoressa Michela Mercuri, docente di geopolitica del Mediterraneo. Grazie per essere con noi professoressa. Grazie a voi, buonasera. Allora, abbiamo raccolto nel blog di Copertino un po' di dichiarazioni degli esponenti politici del nostro paese alle dichiarazioni che citavo poc'anzi. Conte del Movimento 5 Stelle, professoressa, parla di interferenza negli affari del nostro paese. Possiamo effettivamente definirla così? È un'interferenza assolutamente ingiustificata. Probabilmente fatta, come ha detto anche il premier Meloni, per motivi di natura interna, per paura che i partiti conservatori con la Le Pen o anche con Vox in Spagna, perché anche la Spagna comunque ha sottolineato alcune pecche delle politiche italiane, secondo me inesistenti, ecco, ho paura che magari i partiti conservatori possano ottenere maggiori voti alle elezioni europee del 2024, ma è comunque un'ingerenza. E poi, se mi permettete di dirlo, da che pulpito viene la predica? Io devo sentire dal mia nonna, che è il ministro dell'interno e poi Sejourné, qualche giorno dopo, dire che la nostra politica migratoria, rileggo perché la memoria è corta, ingiusta, disumana e inefficiente, questo l'ha detto Sejourné, dal mio nonna ha detto che non siamo capaci di gestire i flussi migratori, ma da che pulpito viene la predica, mi permetto di dire? Da quella Francia che, perdonatemi la franchezza, ma manganella ai migranti a Ventimiglia e a Mentone, da quella Francia che aveva promesso di accogliere 3.000 migranti e poi si è tirata indietro da quella Francia che ha siglato il Trattato del Quirinale con Draghi e poi, prima ancora, con Gentiloni, si era accordato per una maggiore collaborazione non sostanto nella questione migratoria, ma anche in questioni commerciali e industriali e penso alla nazionalizzazione di Macron e dei cantieri San Nazare per non far entrare in cantieri nell'affare. Ecco, da questa Francia che ha attaccato la Libia per far fuori i nostri interessi nazionali, noi dobbiamo prendere queste elezioni. Io trovo che tutto quello che è stato detto da tutti i leader intervistati, da Giorgia Meloni, da Tajani, è assolutamente corretto. Conte ha detto, me lo sono segnata, no? Dobbiamo dircelo da sola che questo governo sta sbagliando. No, questo governo non sta sbagliando, sta cercando di fare il possibile, poi se volete magari diciamo anche il perché. Adesso ci arriviamo perché anche Riccardo Maggi, nel blog che abbiamo, nelle dichiarazioni che abbiamo raccolto, dice che effettivamente i risultati sbandierati di Giorgia Meloni sulla questione migratoria non sono così importanti come la Premier ha voluto fare credere. Però voglio sapere prima che ne pensa Savino Balzano di quello che abbiamo detto finora e soprattutto di quell'aspetto già citato dalla professoressa Mercurio, ovvero delle parole di Meloni, che dice non ci usassero come per risolvere i loro conti interni. Quindi Savino, secondo te anche questa questione, questa questione migratoria è uno specchietto per le allodole, per i cittadini francesi? Io sottoscrivo ogni parola che ho ascoltato fino ad ora perché mi sembra veramente di essere dinanzi ad uno spettacolo irrazionale, davvero irrazionale, o meglio irrazionale rispetto all'esigenza di un Macron in seria difficoltà anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che prova in qualche modo a sterilizzare l'avanzata della Le Pen in Francia. E tanto è vero che questo sta succedendo anche in altri paesi che vedono un certo tipo di destra, di destra a destra come la nostra vulgata la definisce, avanzare. E dunque non voglio ripetere le cose che sono state già dette, aggiungo peraltro che a 20 miglia sono stati certificati anche respingimenti in piena violazione del diritto internazionale perché i francesi stanno respingendo anche i minori pur di non farli entrare nel loro territorio. E allora aggiungo un solo elemento proprio per non ripetere ciò che è stato già detto, cioè i difensori italiani di queste esternazioni francesi che cosa chiedono al governo? Cioè se loro sposano l'idea che la nostra gestione dell'immigrazione è disumana, come è stato appunto recentemente dichiarato Oltralpe, ebbene allora che cosa si chiede di fare al nostro governo? Di emulare la gestione migratoria che hanno i francesi? O la gestione migratoria che hanno gli spagnoli? Ragazzi io credo che siamo davvero dinanzi alla strumentalizzazione più totale di un tema che invece rappresenta un dramma per molte persone. E come sempre gli ultimi e i deboli vengono strumentalizzati per beceri interessi di orticello politico, che tra l'altro non pagano. Perché qualsiasi italiano, scusate aggiungo, qualsiasi italiano di buonsenso e di piena fede patriottica, ricordiamo che la parola patria si può ancora pronunciare, e lo stesso Presidente della Repubblica ha più riprese e la utilizza, non dovrebbe accettare ingerenze di questo tipo che violano la sovranità, altra parola presente nella nostra Costituzione, che il nostro Paese dovrebbe esprimere. Professoressa Mercuri, veniamo adesso alla questione della gestione migratoria, perché la Commissaria Europea per gli Affari Interni, Johansson, ha smentito la Francia, ha detto che l'Italia gestisce bene i migranti. E allora, le cose che abbiamo sentito dagli altri esponenti dell'opposizione, c'era Gribaudo del Partito Democratico che invece diceva, e anche lo stesso Bonelli, che il nostro Paese, mandando avanti con questo modo di agire del governo Meloni, rischia di isolarsi in Europa. Beh, noi non ci stiamo isolando in Europa, è l'Europa che ci sta isolando. Sono i francesi che rispingono i migranti, come ci diceva giustamente prima, a Ventimiglia e a Mentoni. Perché se davvero la Francia, e poi spiego anche un'altra questione, ma se davvero la Francia pensa che non siamo capaci di gestire i flussi migratori, è allora che ci dia una mano, perché una mano è sempre ben accetta dalla Francia, soprattutto con cui delle partnership, anche per la gestione dei flussi migratori che arrivano dalla Libia e dalla Tunisia, sarebbe altamente desiderabile e altamente utile per l'Italia, così come sarebbe utile anche un intervento dell'Unione Europea, che più volte ci ha provesso nei vari summit, è l'ultimo, quello che si è svolto pochi mesi fa, una maggiore collaborazione nella gestione dei flussi migratori e invece non ci ha mai stata. Sui flussi migratori voglio dire una cosa, è vero, sono aumentati esponenzialmente quest'anno rispetto agli altri anni, parliamo di 42 mila, 43 mila arrivi rispetto ai 10 mila dello scorso anno, no, nello stesso periodo dello scorso anno, ma dobbiamo anche un po' allargare lo sguardo. Non è che sono arrivati perché il governo sta sbagliando qualcosa, sono arrivati perché si è creata nel Nord Africa, ma anche nel mondo, una tempesta perfetta, sono aumentati gli sbarchi dalla Sirenaica, perché dall'Egitto molti migranti partono dalla Sirenaica, che è confinante, si trova in Libia, e perché? Perché c'è la crisi del grano ucraino, per esempio, quindi gli egiziai non hanno più il grano, non hanno più il pane che prima veniva passato con susidi statali, c'è la crisi in Sudan, molti migranti dal Sudan, che confinano con l'Egitto, arrivano nelle coste libiche, per esempio, attraverso il canale di Suez e cercheranno di arrivare in Italia, e poi c'è la Tunisia, in cui il governo Sayed ha attuato una stretta autoritaria sui migranti subsariani, una Tunisia che è in default economico, e quindi stanno partendo in migliaia e in migliaia partiranno, quindi non è colpa dell'Italia se gli sbarchi sono aumentati, ma è colpa di quello che sta accadendo a livello internazionale, mettiamoci anche di mezzo la siccità che sta colpendo quest'anno l'Italia, sicuramente, ma moltissimi paesi africani che stanno perdendo tutte le risorse, pensate che ci sono alcuni paesi che hanno perso il 90% del bestiame a causa della siccità, è chiaro che c'è una concierì, se così vogliamo chiamarla, internazionale che ha causato questo. Ma infatti si parla anche, mi perdoni professoressa, di un importante flusso migratorio che ci sarà nei prossimi anni dovuto proprio ai cambiamenti climatici, la siccità e non solo, ma andiamo a concludere, voglio sapere, sia da lei che dal nostro opinionista Savino Balzano, che ne pensi invece di questo silenzio di Macron, silenzio assenso o di imbarazzo? Prego, prima lei. La ringrazio, grazie molto. Ma Macron non prova mai imbarazzo, qual imbarazzo? Macron è assolutamente dal mio punto di vista un silenzio assenso, concludo solo con una frase, vi ricordate nel 2018 cosa disse Macron quando il governo giallo-verde, quindi di Conte che prima ha detto possiamo dire che la nostra politica migratoria è sbagliata solo noi, ammettendo che noi in qualche modo è sbagliata, ecco Macron al governo giallo-verde nel 2018 quando è chiuso i porti disse la politica italiana è vomitevole, questo l'ha detto Macron, quindi non sta smettendo perché è assolutamente convinto di quello che viene detto, basterebbe pochissimo, pochissimo per smentire. In questo è concludo davvero, l'atteggiamento del governo è stato molto, molto, permettetemi di dire, fine da questo punto di vista, diplomatico del nostro governo. Eh sì, devo condividere perché sono parole ragionevoli, peraltro vorrei ricordare un altro elemento, la Meloni ha risposto, non le ha mandate a dire ma lo ha fatto con compostezza, con eleganza, non è andata a gamba tesa sulla Francia, forse perché spera, mi auguro che sia una speranza ben fondata che il quadro si possa ricomporre, ma Macron non è il capo del governo, Macron è il presidente della Repubblica Francese, è un capo di Stato, quindi il fatto che il capo del suo partito, il ministro degli interni che è emanazione evidentemente della volontà del capo dello Stato, dicano determinate cose e Macron dovrà chiarire qual è la posizione del paese rispetto a questo, perché è una questione che ci coinvolge tutti come paesi europei e dunque è un silenzio per me colpevole, complice. Allora noi attendiamo eventualmente la replica di Macron, professoressa la commenteremo insieme qualora arrivasse, grazie a Michela Mercurido, città politica del Mediterraneo per essere sempre così disponibile con noi, alla prossima. Grazie a voi, buona serata. Noi adesso cambiamo argomento, le dimissioni di Carlo Fortues dalla carica di amministratore delegato della RAI hanno messo in moto un vero e proprio terremoto per la TV di Stato, oggi però potremmo dire che è iniziata la ricostruzione meloniana, perché il Consiglio dei Ministri su proposta del MEF ha designato Roberto Sergio come nuovo AD. Lorenzo Capezzoli Ranchi. Il suo simbolo è un cavallo che doveva significare sacrificio e resurrezione, trasformazione e rinascita. Ciò, in effetti, inquadra perfettamente l'attuale situazione della RAI avvolta in un turbinio di polemiche. La TV di Stato è oggetto, da settimane, per non dire da mesi, di frizioni con il governo di destra-centro targato Giorgia Meloni, ma non solo. Fra i tanti, memorabile lo scontro tra Viale Mazzini e Palazzo Chigi intorno a Sanremo, alle performance e ai messaggi condivisi in diretta dal Teatro Ariston. Il governo, da questo punto di vista, sembra avere la memoria lunga, non avendo mai digerito l'ultimo festival condotto da Amadeus, ultimo perché si vocifera di una direzione artistica ormai commissariata. Di palco in palco, dalla canzone italiana alle canzoni del concertone del primo maggio, nuove le tensioni che mettevano a rischio il posto dell'amministratore delegato Carlo Fuortes. Fuortes che ha preso tutti in controtempo rassegnando le sue dimissioni da A a D della RAI. Un passo che era nell'aria fra volontario e forzato, visto lo spoil system che ha visto decapitati nelle settimane passate i vertici di IMS e INAIL, ma non solo, a suon di consigli dei ministri. Nella sua lettera di dimissioni, l'ormai ex amministratore delegato della RAI ha ribadito di aver sentito lo scontro sulla sua persona e un cambio di atteggiamento nel consiglio di amministrazione che lo ha spinto per questo alle dimissioni per non paralizzare via le mazzini. Si ripartirà con ogni probabilità da un nuovo tandem alla guida della RAI, composto da Roberto Sergio, già direttore di Radio RAI, e Gian Paolo Rossi, intellettuale considerato molto vicino alle posizioni del presidente del consiglio. Da qui si apre davvero il momento del waltzer delle poltrone. Nel nome di un già citato spoil system che nella RAI assomiglia più a un vero e proprio domino, il tutto nel nome di quella che il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi ha definito cambiare la narrazione del paese, insieme ovviamente a molti dei suoi interpreti. Buonasera e benvenuto a Gianluca Roselli, giornalista del Fatto Quotidiano. Grazie per essere qui con noi Gianluca. Buonasera, buonasera a voi. Allora, prima di aiutarci a capire con te cosa sappiamo di questa nuova figura di Roberto Sergio, Fuorte se è stato cacciato, ha anticipato la cacciata o in un certo senso era una scelta sua quella di andarsene? Ma diciamo che non c'è nessuna legge che imponga al vertice RAI di andarsene al cambio di governo, nel senso che il vertice RAI riceve un incarico per tre anni, che poi secondo molti sono pochi, nel senso che comunque in tre anni è difficile poi riuscire a governare e a fare progetti di lungo respiro. Comunque il mandato RAI è in tre anni. Fuorte era stato incaricato da Mario Draghi tramite l'estimizio dell'economia a Daniel Franco, però poi al cambio di governo, il governo cambia, nel frattempo nessuno ti dice di andarsene, tant'è che l'ex amministratore delegato Fabrizio Sanchini ha visto passare ben tre governi durante il suo mandato e nessuno gli ha mai detto di andarsene. Chiaramente con la vittoria della destra, quindi non c'è nessun obbligo, mentre le altre partecipate, le altre grandi del Stato erano in scadenza, quindi c'è uno spoil system, sulla RAI questa qua non è scritta da nessuna parte, è chiaro che con un cambio di governo, di maggioranza così forte, con la vittoria della destra, destra che poi oltretutto in RAI lamenta sempre di essere comunque subalterna, su posizioni residuali e imputando la sinistra di dominare ovunque, dalle reti, ai programmi, alle condizioni, è chiaro che c'era molta voglia da parte della destra, non so se di Giorgia Meloni personalmente, ma comunque da tutto un mondo, c'era una grande voglia, una grande spinta per andare ad ottenere posizioni di comando, però è stato veramente un grande particcio questo di Fuortes, è stato un grande pasticcio perché lui o di sua sponte e senza nessun obbligo alla vittoria della destra andava a Palazzo Chigi e diceva ok io sono l'amministratore delegato della RAI, rimetto il mandato per avere una nuova fiducia, oppure doveva continuare come se nulla fosse e al limite se davvero la politica lo voleva cacciare lo dovevano sfiduciare nel consiglio di amministrazione, invece è nata questa sorta di cosa a metà, di irco cervo, colui che se ne va e nessuno dice però di averlo cacciato. E' curiosa infatti questa disavventura di Fuortes, Savino? Sì, è difficile decifrare quello che è accaduto, lui lamenta il fatto che il suo ruolo sia diventato oggetto di scontro e contesa politica e che questo lo abbia spinto a lasciare il suo incarico. I cambiamenti in RAI con l'alternanza dei governi e delle maggioranze ci sono sempre stati, non è una grande novità. Io non so che tipo di cambiamento abbiamo all'orizzonte, so quello che abbiamo adesso in RAI che è secondo me uno stato di prostrazione del servizio pubblico italiano che fino a qualche anno fa quantomeno garantiva una sorta di variabilità tra le varie reti del servizio pubblico e seguivano racconti diversi, narrazioni fatte a partire da punti di vista differenti. Oggi noi abbiamo in RAI un conformismo asfissiante attorno ad una narrazione politicamente corretta che sostiene sempre le stesse tesi, lo stesso punto di vista, la stessa impostazione. Un cambiamento rispetto a questa condizione di partenza io credo sia necessario. Necessario perché la RAI è servizio pubblico e deve garantire pluralità e democrazia nel racconto pubblico. Come ha sottolineato Lorenzo nel servizio il sottosegretario alla cultura, Mazzi, ha detto che è giusto cambiare la narrazione del Paese. Allora chiedo a Gianluca Roselli, si vocifera che un brusco stop verrà dato a giornalisti e conduttori considerati vicini ai partiti dell'opposizione. Chi salta e chi arriva? In questi giorni si fanno tanti nomi. Chi salta ancora di certo non si sa, si può dire magari qualcosa di certo su chi arriva insomma, però i nomi sono tanti. Diciamo la trasmissione che sta un po' diventando come dire rappresentativa in questo momento è Underdog di Laura Tecce, però Laura Tecce è già lavorato. E' già il nome. Sì, perché lei stessa ha raccontato che insomma il nome, io trovo, tra l'altro, azzeccatissimo, l'è venuto sentendo appunto il discorso di Giorgia Meloni, il discorso di insediamento in Parlamento. Quindi lei in questo programma racconterà le persone svantaggiate insomma, quelle che nessuno si filava e che poi hanno avuto successo. Quelle che non vedono arrivare, come diceva Giorgia Meloni in un certo senso. Esatto, esatto, esatto. Anche la Shlenon Underdog. È vero, in questo senso sì. Quindi comunque vedremo, poi si parla di Pino Insegno, si parla di come dire, anche sostituzioni comunque per esempio dovrebbe saltare Stefano Coletta che è il grande direttore del Prime Time che fa Sanremo, oppure al TG1 dovrebbe arrivare Gianmarco Chiocci, comunque grande giornalista d'inchiesta, è attuale direttore della DN Kronos al posto di Monica Maggioni, quindi poi ci sarà anche un cambio al TG2 perché non possono esserci due meloniani, un altro al TG2, quindi Rao, Nicola Rao che era stato nominato da poco, verrà ridirottato verso altri leading. Vedremo se poi in tutto questo risico riuscirà ad avere un ruolo anche Giuseppe Carboni che 5 Stelle, insomma, è stato direttore del TG1 in quota 5 Stelle ed è stato poi messo da parte, quindi anche in questo nuovo accordo che si profila con l'elezione che deve essere ancora eletto e votato in CDA Roberto Sergio, oggi è stato nominato soltanto membro del CDA, quindi consigliere, vedremo se poi in questo nuovo accordo che porterà appunto lui a essere nuovo amministratore delegato e Rossi direttore generale, vedremo poi chi entrerà perché si profila diciamo un patto in cui stanno dentro tutti tranne la sinistra, perché in consiglio di amministrazione al momento l'unico che gli votranno contro, forse la Bria che è rappresentante del PD e forse il rappresentante dei dipendenti Mila Ganà e non si capisce ancora quello di Alessandro Di Maio di 5 Stelle, però insomma diciamo che da quello che trapela Giuseppe Conte avrebbe fatto una sorta di accordo con la destra dando il via libera a Chiocci e al TG1, quindi vedremo che cosa si profila. Sicuramente ci saranno tante novità, anche volti nuovi e magari qualcuno andrà... Qualcuno anche un po' scomodo diciamo magari rispetto a quelli che almeno dal punto di vista dell'opposizione. In conclusione voglio fare un ragionamento che è molto ampio però dobbiamo cercare di restringere in questi pochissimi minuti che ci restano. La RAI un tempo era lottizzata, adesso ogni nuova maggioranza vuole una dirigenza conforme alla propria linea. Che ne pensate di questa situazione del nostro sistema di informazione pubblico? Gianluca e poi Savino. Sì, diciamo che forse la divisione che è stata fatta per generi, ora non ci sono più le reti, ci sono i generi, quindi aiuta di meno. Prima era più semplice la situazione, c'erano tre grandi partiti ognuno si pigliava un canale. Adesso la maggioranza vuole tutto. Allora diciamo che è l'ultima riforma della RAI di Renzi. L'unico modo per scampare a questa cosa è fare una riforma della RAI seria che nessuno ha fatto finora, neanche i 5 stelle che hanno sentato a Palazzo Chigi per tre anni, in cui si parla molto della BBC, si crea una struttura che faccia la cuscinetta tra la politica e la RAI, perché finché il Consiglio d'amministrazione lo elegge il Parlamento e l'AD, il Governo, è normale che sia così. La politica domina la RAI, l'editoria della politica è la RAI, il Parlamento è il Governo, quindi non c'è nulla di cui sorprenditi. E chi vince le elezioni si vuole pigliare. Savino, pochissimi secondi, dobbiamo chiudere. Si spezzi la narrazione unica e si avvia un percorso di pluralismo, questo è quello che serve la RAI secondo me. E più conciso di così non potevi essere. Grazie intanto a Gianluca Rosselli, giornalista del Fatto Quotidiano per essere stato qui con noi, torneremo a disturbarti. Savino, a te, i nostri tre spettatori ti trovano domani. Buona serata a te, buona serata a tutti voi. Grazie a Daniele Ricciuto in regia, ma sempre in primis soprattutto a voi per l'onore della vostra attenzione. Buon proseguimento di serata.